Allora di nuovo qui nella soffita del rezzo per un altro fantastico video che vi piacerà tantissimo e condividerete a manetta e vi volevo parlare di un altro fenomeno social diciamo della musica che mi ha interessato molto ma se devo dire la verità mi ha divertito tantissimo è quello di Bello Figo e molti di voi forse l'avranno avranno sentito insomma certe canzoni a me io per esempio una di quelle è veramente fantastica mi ha fatto morire da ridere quella su Barbara D'Urso dove c'è praticamente lui con un chiodo fucsia e le scarpe fucsia e questo video ovviamente è girato lo fai in giro credo per Parma se non sbagli lui è di Parma dove appunto dice che vuole essere come Barbara D'Urso, vuole essere figa come Barbara D'Urso ovviamente tutto questo condito da incredibili volgarità sulle donne bianche, sulla figa bianca come dice lui e sono un personaggio veramente fantastico la cosa che colpisce dopo uno che si interessa va sul canale anzi andate a vederlo magari vi mette in descrizione il link al canale di Bello Figo è la tematica perché lui veramente io questo lo trovo geniale ha fatto veramente delle canzoni che sono i titoli sono molto interessanti tipo Mussolini una canzone sui Maroc per esempio, quale gruppo italiano si è messo ad affrontare questi temi tipo il fascismo, Maroc, Hitler, Francesco Totti addirittura e trovo che sia un personaggio fantastico dopodiché appunto il grande successo l'ha fatto con quella canzone che parla un po' fa una parodia di tutti i luoghi comuni che abbiamo sugli immigrati quello per esempio dice noi vogliamo wifi e non pago affitto così è una cosa veramente fantastica non è tanto la cosa di per sé ma è appunto la reazione che la nostra società un po' stupida, un po' bigotta ha avuto rispetto a questo artista lui stesso tra l'altro si prende poco sul serio nel senso che raccontando della sua storia dice che appunto si è messo a fare questi video soprattutto per far ridere i suoi amici insomma in modo così poco semiserio e invece è fantastico perché è stato preso sul serio in maniera incredibile appunto è stato poi invitato da Barbara D'Urso è stato invitato da una trasmissione che faceva Belpietro e era veramente esilarante la serietà con cui praticamente la scena era questa c'era bello figo da una parte lui che tra l'altro nei video spara un sacco di parlacce veramente volgarissime è tutto educato, tranquillo che non riusciva neanche a parlare dall'altra parte Belpietro serissimo e in collegamento queste famiglie di italiani sfrattate o povere, adesso non so quale fosse il loro problema che ovviamente lo infamavano in modo incredibile senza capire ovviamente il contenuto ironico anche autoironico dei suoi pezzi e quindi insomma veramente a livello sociale secondo me è stata una cosa veramente divertente adesso non so se lui sta continuando a suonare, andare in giro il fatto successo oppure è stato solo il bondone esploit legato a questo fraintendimento sul reale contenuto delle canzoni però io credo che sia una persona che abbia senz'altro un gran coraggio e quindi insomma merita senz'altro attenzione detto questo vorrei sapere da voi adesso viene la vostra parte in cui dovete dirmi cioè dovete, non dovete far niente ma se volete mi dite cosa invece, come l'avete percepita voi perché poi appunto io ho un po' il polso di molti musicisti soprattutto come dico sempre della mia generazione non so, io dei ragazzini ormai sono a una certa età mi sono perso questo trend però diciamo della mia generazione anche loro che prendevano sul serio molto scandalizzati del fatto no, ma quello non fa musica insomma che l'amminavano sulla qualità del canto perché come sapete tantissimi di questi artisti cantanti trap usano l'autotune magari non sanno cantare bene e sparano un sacco di parolacce diciamo mettono in luce calcano la mano sui vizi sulla droga sulla dissolutezza sul fatto che hanno i soldi se ne sbattono li bruciano eccetera eccetera e insomma è bello vedere a livello sociale questo scontro tra questi ragazzi che in realtà magari sono poveri sono nati poveri o vivono in una situazione di normalità quantomeno e invece questi tra virgoli italiani per bene che si sentono offesi da questa arte un po' provocatoria quindi ditemi quello che pensate pollicione se volete condividere se avete il coraggio non credo perché immagino che le vostre conoscenze siano tutte molto abbottonate ma soprattutto andate a vedere bello figo perché veramente è uno spasso detto questo vi saluto nel prossimo video ciao ragazzi